sia lodato gesù cristo prima di iniziare il video ti ricordo che ho preparato quest'area troverai qui sotto in descrizione il link dove poter accedere a tutti i miei libri visto che ci troviamo nella fine dei tempi ho preparato questi questi libri forse non ce ne saranno altri con le informazioni più importanti che ci servono per la salvezza e per essere poi strumenti di dio nei momenti difficili che stanno per arrivare quindi ti ricordo che qui sotto troverai il link per accedere a questi libri e quello più importante ovviamente questo qui ci clicchiamo e e il manuale di sopravvivenza della fine dei tempi un abbraccio dio ti benedica e se ti va lascia un commento e un like al video sia lodato gesù cristo benvenuti fratelli e sorelle oggi continuiamo con la parte 4 dei tentacoli dell'anticristo attraverso la lettura dei messaggi e delle rivelazioni date dal cielo alla mistica luce di maria quindi richiamiamo noi lo spirito santo a leggere meditare e fare una riflessione personale sulla questo secondo tentacolo dell'anticristo e l'educazione però cercheremo di non dilungarci troppo perché questo questo tentacolo molti risvolti all'interno della società spirito santo vieni a leggere me e poi offro a te questa lettura per glorificare il nostro signore gesù cristo per mezzo del cuore immacolato di maria nostro signore gesù cristo 2020 non vi rendete conto di aver vissuto una rivoluzione che è stata infiltrata dal demonio nella mia chiesa nella società nell'educazione nella politica in modo passivo dolce che vi ha portato poco poco fuori strada con false esperienze che nelle persone di poca fede mettono radici facilmente e vengono accettate dolce dolcemente per l'ignoranza nostro signore gesù cristo 2016 non dimenticatevi che il piano dell'anticristo ed imbossessarsi dell'umanità rapidamente e quindi unificherà i governi le economie ed educazione e metterà decreti di modo che tutti pensino allo stesso modo agiscono allo stesso modo e la società sia una massa di seguaci dell'impostore la libertà sarà distrutta e la religione sarà unificata parleremo successivamente nei prossimi capitoli dell'anticristo anche perché c'è una grande confusione all'interno delle profezie mariane riguardo questa figura qualche volta ha cercato di fare chiarezza visto che in questi messaggi di lozza di maria l'anticristo qui apro una parentesi poi chiudo qui si parla di un personaggio o una serie di personaggi che hanno una influenza sulle decisioni politiche del mondo e hanno una potenza tale economica finanziaria politica tecnologica che non si può considerare soltanto quel tipo di anticristo che usurperà il trono di pietro ma qui invece in queste in questi in apparizioni si parla di un anticristo che ha potere tecnologico e finanziario tale da voler dominare il mondo e per dominare il mondo bisogna bisogna far sì che le proprie opinioni abbiano un impatto sull'economia sulla politica e sulle questioni del mondo l'educazione l'educazione è un tema importante più sopra nel nei video precedenti abbiamo parlato delle invenzioni con i quali il demonio ha portato l'uomo a distruggersi e quindi a immergersi nella nell'invenzione della televisione ma soprattutto oggi in questa era tecnologica dell'intelligenza artificiale del cellulare attraverso il cellulare abbiamo distrutto l'educazione dei bambini i miei nipotini non possono fare meno del cellulare e ieri mentre ero in preghiera mentre le sante legioni di san michel arcangelo erano nel cielo e si mostravano questo grande peccatore spero che il cane che stia abbaiando non si senta io comunque per sicurezza ho da chiudere la finestra perché è insopportabile ha cominciato ad abbaiare in questo momento mentre stavo realizzando il video eccoci ovviamente questa parte non la togliamo perché il cane ha smesso ora sta perché e quindi stavamo dicendo che l'educazione è un fattore importante e ieri mentre ero in preghiera sono scese dal cielo diverse sfere di luce che sono le sante regioni di san michel arcangelo dicevo visto che hanno suonato la porta i miei nipotini però non bisogna demordere perché l'educazione ci deve portare ad avere fede ad avere perseveranza in quello che si fa per nostro signore gesù cristo quindi questi questi video ieri sono scesi dal cielo diversi globi di luce che sono le sante regioni di siamo anche l'arcangelo e poi hanno sussurrato al mio cuore l'importanza di realizzare questo video anche se fossero 10 20 persone che lo ascoltano sull'educazione e quindi sull'importanza di impartire un'educazione corretta ai bambini perché i bambini oggi a partire dall'età di due anni forse anche meno sarebbe gravissimo hanno un cellulare tra le mani sanno riconoscere il touchscreen youtube i cartoni e i miei nipotini che hanno dieci anni attraverso il cellulare che hanno ormai da cinque anni hanno imparato tutte le bestemmie tutti tutte le parolacce seguono tutti i video dei calciatori degli attori della musica imparano tutte le canzoni e hanno una loro educazione sessuale sbagliata perché sanno conoscono tutti i termini anche loro hanno dei profili social e vedono la nudità che circola sui social i genitori non non analizzando questo questo tipo di scenari cioè lasciare nelle mani dei bambini il cellulare ignorano che pagheranno anche loro un conto caro e salato davanti dio ecco che l'educazione non è soltanto l'azione diretta del demonio ma anche poi le conseguenze del libertinaggio perché a livello a livello ecclesiale a livello a livello di chiesa a livello di realtà parrocchiale come ad esempio nella mia parrocchia l'educazione nel da parte della massoneria ecclesiastica ha portato la maggior parte delle realtà parrocchiali a costruire questa nuova figura che il ministrante straordinario dell'eucalistia dove i laici che non sono sacerdoti diventano sacerdoti soltanto per amministrare con le loro mani peccaminose la santa eucalistia al corpo di gesù e darlo alle persone e questa è una grandissima bestemmia contro lo spirito santo e su questo argomento ritorneremo in un successivo messaggio ritorneremo in un successivo messaggio dato dal cielo a una mistica che si chiama valentina papagna qualche volta abbiamo portato sul canale dei messaggi di valentina ed è uscito un bellissimo messaggio che io stavo aspettando da tempo un ammonimento da parte di dio riguardo a queste figure che amministrano la santa eucalistia nelle chiese però una volta che però le persone poi si abituano il sacerdote e poi non dice nulla ma consente e poi queste queste persone pensano che sia una cosa gradita a dio in verità non lo è quindi l'educazione e dobbiamo guardarla anche come un pare le stesse cose in modo ripetitivo all'interno della chiesa abbiamo tante cose sbagliate oggi il vangelo il vecchio testamento il nuovo testamento hanno una interpretazione sbagliata degli eventi questo perché la massoneria ecclesiastica all'interno della chiesa cattolica come nelle altre realtà non cattoliche al potere e sta avendo il potere di cambiare togliere sostituire i termini presenti nella parola di dio confondendo così le persone e mi riferisco a non solo al cambio delle preghiere ma anche alla sostituzione e alla eliminazione di alcuni concetti presenti nel vecchio nel nuovo testamento come la vita nell'universo e quindi il nostro signore gesù cristo in questo messaggio del 2020 ci parla di questa rivoluzione che il demonio ha portato all'interno della società educando il mondo alla televisione la tecnologia io penso ai giovani ogni tanto faccio dei sacrifici esco con delle persone del mondo con amici con i quali rido scherzo ma ad otto delle maschere perché questi amici questi fratelli e sorelle non vogliono sentir parlare della chiesa perché la chiesa è pedofila assassina ricca tirchia e quindi sono stati educati attraverso gli scandali a non andare mai in chiesa sono stati educati dal mondo che la vita è una che non c'è nulla dopo la vita e quindi bisogna divertirsi farsi il fisico e alcolizzarsi drogarsi divertirsi perché poi non c'è nulla dopo e quindi non bisogna perdere tempo dietro un dio che impone la santità e la santità vuol dire rinuncia al mondo rinuncia al mondo vuol dire una vita soffere sofferente e per e per me non è una vita sofferente la rinuncia a tutto per nostro signore gesù cristo perché questo questo padre infinito dalla mia conversione a meggiugori ad oggi quindi dalla 2012 ad oggi sono 12 anni 12 anni di segni 12 anni che gli angeli scendono dal cielo e mi donano infiniti segni manifestazioni visioni locuzioni che che rendono la mia fede educata a servire continuamente nostro signore gesù cristo per testimoniare al mio prossimo poi le persone intorno a me quanto sia importante che la nostra educazione ci porti a lasciarci lavorare nella preghiera e nel voler servire dio e non il mondo questo carattere che abbiamo che noi abbiamo un carattere testato egoista superbo arrogante e dobbiamo avere il coraggio attraverso la preghiera la conversione attraverso una continua educazione corretta nel nostro libertinaggio che dio non viola di lasciarci modellare dalla santissima trinità attraverso le opere di bene i sacramenti la santa ecolestia dobbiamo imparare a frequentare di meno al mondo dobbiamo imparare a stare il meno possibile davanti alla tecnologia dobbiamo imparare a saper rispondere ad avere un comportamento corretto le persone che ci circondano in questo modo impediamo al demonio di di tentarci perché poi la tentazione ci porta in luoghi sbagliati la tentazione ci porta a rispondere ai nostri genitori a litigare con i nostri amici la tentazione ci porta a fare esperienze sbagliate e queste esperienze sbagliate ci portano lontano da dio il nostro signore gesù cristo ci parla di questa educazione che l'anticristo sta costruendo intorno al mondo attraverso l'intelligenza artificiale attraverso attraverso la tecnologia attraverso scoperte tecnologiche nel secondo messaggio del 2016 abbiamo letto infatti che la nostra libertà sarà distrutta e la religione sarà unificata e la libertà viene distrutta un po alla volta da imposizioni per arrivare poi al marchio della bestia che come sappiamo attraverso le rivelazioni di rossi de maria e questo microchip sotto cutaneo sotto pelle che per ora soltanto in una nazione è offerto ai malati con la promessa di recuperare la vista di ritornare a camminare e le persone si stanno offrendo volontarie per andarselo a far a mettere nel corpo nel cervello ovviamente coloro che se lo possono permettere vanno e se lo mettono coloro che non se lo possono permettere le persone devono subire le imposizioni dei governi ecco che l'anticristo sta educando il mondo alla religione unica al governo unico alla economia unica alla tecnologia all'intelligenza artificiale e come anticristo dobbiamo considerare oggi non soltanto una persona c'è una persona che si può considerare l'anticristo e per oggi dobbiamo considerare il potere dell'anticristo questo potere dell'anticristo che sono tutti coloro che nel mondo vogliono una guerra vogliono sono il dominio dell'umanità sono tutte quelle nozioni o tutti quei personaggi che hanno tra le mani energia nucleare sono tutte quelle persone che hanno il desiderio di vivere tra le sfere alte dominare il mondo e dettere legge sui più piccoli allora oggi abbiamo la missione di educare i nostri figli lontano dai cellulari e insegnare loro la preghiera e le cose del cielo il vangelo la preghiera e non stanchiamoci di fare le opere perché la nostra educazione sta nelle opere di bene visto che attraverso le opere di bene saremo giudicati sia in cielo se dovessimo morire prima o nella seconda venuta di gesù e ancora prima durante l'avvertimento universale che inizierà con i dieci segreti di meggio cori grazie 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 grazie